e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi un video che non era in programma ma visto che mi sono arrivate delle immagini molto interessanti vi propongo appunto quello che mi è arrivato di questa moto qua che è una moto che sembrerebbe camuffata sembrerebbe una guzzi una moto guzzi un po più sportiva del solito da come la vedo mi sembrerebbe una v7 una v9 ma non vorrei dire castronerie e quindi vi faccio partire un po questi video e devo ringraziare alessandro da bassano per appunto queste immagini che mi sono arrivate quindi vi metto questa questo video ragazzi di questa moto che è stata vista sinceramente non so dove però dovrebbe essere vicino bassano quindi e sembrerebbe appunto una v7 v7 però un po più sportivo ok un'altra immagine con la moto in movimento un altro video con la moto in movimento eccolo qua poi i video li ho scaricati da whatsapp però comunque si può rendere l'idea un po della moto guardando un pochino il video ingrandendo la targa così sembrerebbe una targa di prova quindi si potrebbe dedurre che è una moto prova che è una moto camuffata e sembrerebbe appunto una moto guzzi secondo me è un po' una v7 sport sport edition centenario edition non lo so quindi ragazzi altro motivo per seguire ecma e video che farò su ecma perché andremo a ecma per 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 avere novità per vedere tutte le novità e una sarà che questa che comunque moto guzzi ci sta nascondendo perché abbiamo sentito parlare della v100 v1000 la nuova diciamo crossover abbiamo sentito parlare di tante novità ma di questa moto non abbiamo mai sentito parlare quindi moto che comunque a mio avviso interessante ultimamente moto guzzi sta centrando davvero il segno con con le sue con i suoi nuovi modelli facciamo vediamo un po la v85 tt che comunque sta davvero avendo tanto successo quindi a livello italiano ma anche all'estero comunque vedo che va molto e quindi aspettiamo un po novità da casa guzzi e niente ditemi un po qua voi nei commenti cosa ne pensate a mio avviso sarà una moto molto interessante chiuderei qua il video ringraziando ancora alessandro da bassano e il nostro amico diego che mi ha appunto girato questi video grazie ancora se ragazzi avete dei video del genere delle foto di moto camuffate moto spia mandatemi perché io ve li metto sul canale subito ragazzi grazie grazie ancora e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.